Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Pisa per traffico intenso ci sono code tra Firenze Ovest e Prato Est e code in direzione Firenze tra Firenze Nord e Firenze Beretola. Sulla Fipili per lavori ci sono rallentamenti in direzione mare tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Sulla corda autostradale Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra Badesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonsi e Tavarnelle. Sulla regionale Due Cassi a senso unico alternato all'altezza del chilometro 291 nei comuni di Imprunità e Firenze fino al 31 maggio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.